Imprenditore Lombardo arrestato a Baveno dalla Guardia di Finanza di Verbania perché trovato in possesso di droga, lo stupefacente era occultato in due buste sottovuoto nel bagagliaio della sua vettura. All'interno delle due buste 1,2 kg di marijuana. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo stradale nei pressi dello svincolo autostradale a mettere i finanzieri sulle tracce dello stupefacente l'olfatto del pastore belga di pattuglia con i finanzieri. Lo stratagemma delle due confezioni non ha infatti sfuggito al cane. Subito dopo il rinvenimento l'uomo è stato sottoposto ad una serie di domande. Le risposte evasive hanno indotto i militari a perquisire l'abitazione dell'imprenditore in provincia di Milano. A casa dell'arrestato i finanzieri hanno rinvenuto un altro involucro sempre sottovuoto contenente marijuana dal peso di circa 800 grammi già pronto per la vendita. In più sono stati trovati altri 6 kg di marijuana ancora da confezionare oltre a dosi di cocaina, pasticche a base di oppiaci e sostanze da taglio. L'olfatto del cane ha portato i finanzieri a perquisire anche la cantina dell'abitazione dove è stato trovato un impianto per la coltivazione di droga leggere, apparecchi e pannelli per climatizzare il locale, filtri per eliminare gli odori, lampade per favorire la crescita delle piante. Tutto è stato posto sotto sequestro.